Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi andiamo a vedere la nuova season 3 di Fortnite E cosa abbiamo qui? Una bella prelobby Innanzitutto la prelobby è questa Che potete cambiare le varie cose Però è bello questo qui Ma se andiamo nel reparto pass battaglia Vedete qui vari stili Bellissimo Questo è Aquaman Poi, vabbè, abbiamo qui le sfide della mappa Quindi andiamo a vedere le varie sfide della prima settimana E poi andiamo a vedere quello che ci interessa Il season pass Il pass battaglia Allora, abbiamo visto La prima skin Ha dei stili Differenti Ora passo al controller Bello Bello anche questo Va a riprendere un'altra skin Che mi piace tanto Poi abbiamo Fade Fade è bella pure questa come skin iniziale Mi gusta Abbiamo questa entrata supereroica Poi il nuoto aereo Bella pure questa I V-Buck Un bonus custom ombrello Perché abbiamo anche un ombrello customizzabile Topo da spiaggia Topo da spiaggia Cambia il topo da spiaggia Ha anche lui delle Delle ricompense Dei livelli Dei vestiti Scusate Abbiamo una rock Animata Abbiamo un suono Che Non ve la posso far sentire Perché non ho il Abbiamo queste asce Belle Asce della marea Vediamo Un simbolo Vabbè Un delfino A me pare un delfino Però va bene Altri 100 V-Buck Qua abbiamo Bella questa Mi piace Il delta plano Bello Questo qua carino Classico Un abbellimento Penso per il potenziamento Della punta Ok Uno spray Con il granchio Bello Un'altra rock 100 V-Buck E abbiamo John C Sub Bello Bello Mi piace Aggressivo Wow Anima Wow Che bello Mi pare sneak Va Fa l'ova Bella pure questa Vediamo se cambia ancora No Ditorna come era Bello Mi piace Vediamo Poi abbiamo Questa Oh E questa Wow Pure questa cambia Secondo me fa parte Del set Del set De John C Quella Sub Per me È la stessa cosa Bella questa scia Abbiamo Molto Il delta plano Simile a quell'altro Ma mi sa potenziato Bello Pure questo Tema acquatico Un tema Molto estivo Infatti Siamo entrati Nel tema estivo Cosa andrà Significare Abbiamo Le lame Le lame What Una doppia lama Quindi o possiamo Scegliere questo stile O quest'altro Bene Grande Epic Games Finalmente Vabbè Certo Il back Dovevi mirare qui Crotino Bello Potenziamento Del corpo Dell'asta Dell'ombrellino Vedete Questi poli Dobbiamo scoprire Dopo Ehi Quanti sono belli Wow I rift Convergenza Segui la farfalla Bello Bello Adesso Arriviamo a lei Ora voi Mi dovete dire Se questa Non fa parte Del salva il mondo Una schermata Boh Mi pare che lei La stessa skin Guardate Il bad back Con il gufo Stupendo Questo è stupendo Mi sbaglio Sempre frammenti Polvere di stelle Costellazione Infine Scusate Bella Anche questa E' animata E abbiamo queste Ma queste So fighissime Mua Bello Sentiamo il rumore Vediamo un po' Fatta la cazzata Non si può sentire Visualizzare Oh Vediamo quando compare Quell'altra Niente Non si può Vedere l'altra Maledetti Abbiamo questo Bellissimo Questo è bello Abbiamo Ma che gli hanno Messo in bocca Scusate Scusate Ci sono 10 Stili Di questo Questi Dobbiamo Vedere Insieme Questo Non ci interessa Oh Questa E' una cosa Che mi interessa Guardate Che ne pensate Non vorrei Essere Troppo Grossa Però E' carina E' carina Bello Badpack Questa Non è animata Bello Bella Bella Questa Bella Questa Questa Mi piace Vediamo C'ha Cambiato Tanti I colori Su queste Quartiglie Potenti Non è malvagio Questo Bello Questa Mi preoccupa Vuol dire Che Potrebbe Forse Cambiare Qualcosa Bah La luna Ma Non si sa mai Come dice Ciccio Non metti Troppe cose Sulla luna Bella Dovrai cambiare Bella Non mi fa impazzire la testa Lo sapete Bella Rosa Carina Costume Epico Attenzione Andiamo quasi in dirittura d'arrivo Andiamo un pochino più veloci Vediamo se c'è qualcosa qua Sono di 6 Quindi cambia soltanto il colore Bella questa Oh bello 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 bella cavaliere nero non è che mi fa non pazzire questo lo cavalcheremo potremmo cavalcare l'onda la cometa questa sarà bella questa perché non mi fa vedere io voglio vedere l'altro non me lo fa vedere bella pure questa guardate sono un cazzato nero quante lame il bel pack è carissimo bellissimo anzi che di sicuro farà parte di questa schiena qua bello a fine season ci danno due due 100 e 100 e niente questo qui era il pass battaglia adesso vi faccio vedere il custom dell'ombrellino qua potete cambiare le varie cose colore a punta vedete bello 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 con questo video è finito ragazzi vi invito a scrivervi al canale youtube e venire a trovarmi su twitch che trovate il link in descrizione vi ringrazio e vi auguro un'ottima buona season a tutti ciao ragazzi